È stata una settimana molto intensa, anche a livello personale, dove ho ricevuto parecchie critiche, anzi ci tengo a precisare, visto che ha fatto tanto discutere questa mia dichiarazione, ma io nomi non ne ho fatti, anzi come mi ha suggerito qualcuno, io quella sera non riuscivo a prendere sonno. Ho incominciato a contare le pecorelle e mi sono fermato a 9, quindi non ho fatto riferimento all'Avellino, non ho nominato nessuno, anzi sono stati loro, l'amministratore delegato addirittura si è permesso di dire che mi devono multare, quindi convinto di questo andiamo avanti. Grazie a tutti!